Una rappresentanza di cittadini processi chiamati ad esprimere le proprie opinioni e proposte su clima, energie alternative e attività che le nazioni possono mettere in atto per contrastare i danni legati ai mutamenti climatici. Il Polo di Innovazione Automotive fa il punto sull'attività svolta con 23 progetti di trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo portati a compimento negli ultimi sette anni. Buonasera, in apertura occupiamoci di sanità e prevenzione, conoscere le tecniche per intervenire in maniera immediata nel caso in cui un bambino ingerisca qualcosa che possa ostruirgli le vie aeree. E' questo l'obiettivo che ha spinto l'Associazione Due Mani per la Vita ad organizzare una lezione gratuita in programma per il 25 giugno prossimo alle 21 nell'ex scuola media di Notaresco in Via Roma. L'iniziativa, in collaborazione con l'Unione Soccorso Intercomunale di Notaresco, la Proloco di Notaresco, il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Teramo, mira a far conoscere le manovre da mettere in pratica per salvare un bambino che si trovi con le vie aeree ostruite. Medici ed infermieri dell'emergenza e istruttori nazionali di Salvamento Academy risponderanno alle domande e mostreranno inoltre ai partecipanti come agire in caso di pericolo. E cambiamo completamente argomento, lo avete sentito dai titoli, una rappresentanza di cittadini abruzzesi saranno chiamati ad esprimere le proprie opinioni e proposte su clima, energie alternative e attività che le nazioni possono mettere in atto per contrastare i problemi per i cambiamenti climatici. Il servizio. Una folta rappresentanza di cittadini abruzzesi diversi per età, occupazione, studi e inclinazioni saranno chiamati ad esprimere le proprie opinioni e proposte sul clima, le energie alternative e tutte le attività che le nazioni possono mettere in atto per contrastare i danni legati ai mutamenti climatici. E questo è la consultazione planetaria sul clima e l'ambiente promossa dalla regione Abruzzo in vista della conferenza mondiale sul clima in programma a dicembre a Parigi. A partire dalle 9 fino alle 17 nelle sale delle Camere di Commercio di Chieti 120 cittadini che hanno scelto di partecipare all'evento saranno collegati con altrettanti gruppi di lavoro sparsi in 80 paesi del mondo. La giornata si svolgerà in ciascun paese con le stesse modalità e con lo stesso protocollo metodologico, stesso numero di domande, di temi trattati e modalità di discussione e confronto. Ogni paese porterà poi i propri risultati alla conferenza preparatoria di Bonni il 15 giugno e all'Assemblea di Parigi. Nell'ambito di questo importante e decisivo appuntamento internazionale la regione Abruzzo unitamente alla Toscana è stata chiamata a rappresentare l'Italia e a formulare proposte programmatiche nell'ambito delle politiche mondiali sul clima e l'energia. Ma ci sono anche belle notizie che riguardano l'ambiente. Pineto infatti mantiene le tre vele di Legambiente posizionandosi al 56esimo posto tra le spiagge più ecosostenibili d'Italia e quanto emerge dalla guida blu redatta ogni anno da Legambiente Turing Club d'Italia presentata all'Expo di Milano. È un risultato che ci rende orgogliosi e che ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, ha commentato l'assessore all'ambiente del comune di Pineto Laura Traini. Pineto si classifica così al secondo posto in Abruzzo dopo Rocca San Giovanni nel Chietino che mantiene le quattro vele dell'anno scorso e nel Terramano si posiziona come la spiaggia migliore. In materia di sviluppo c'è una realtà industriale abruzzese che cresce a dispetto della crisi del comparto e il polo di innovazione automotive che ha fatto il punto sull'attività svolta con 23 progetti di trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo sperimentale portati a compimento negli ultimi sette anni. Tra questi progetti figura infatti lo Shelter, nuovo sistema di trasporto modulare combinabile e intercambiabile rappresentato da un box contenitore per veicoli commerciali, il Ducato, trasformati in grado di adottarsi anche ai trasporti in città e dell'ultimo miglio. Ma lo Shelter presentato alla presenza di vertici del polo automotive e dal vicepresidente della giunta Giovanni Lolli è solo un aspetto dell'attività essenzialmente di innovazione e ricerca del polo. Non è un caso che il polo automotive, che raggruppa 70 imprese del settore meccanico ed è tra i poli più attivi in Italia, sia diventato punto di riferimento per la ricerca delle aziende del metalmeccanico. È una sfida vinta in un mare di scetticismo, hanno detto i responsabili del polo. Automotive, ha aggiunto Giovanni Lolli, ha sempre avuto il sostegno e l'appoggio della giunta regionale nella convinzione che solo ricerca e innovazione possono permettere quindi alle aziende abruzzessi, grandi o piccole che siano, di stare in equilibrio stabile nel mercato internazionale. E con lo sviluppo ci salutiamo, grazie per averci seguito, buona serata. Grazie.